Buonasera e bentrovati. Buonasera e bentrovati. Delegazione di Ant, Prato e Pistoia. Buonasera. Allora, dicevamo, torna quest'anno dopo tre anni, quindi dopo lo stop imposto dalla pandemia, meravigliosamente donna in Ant. L'appuntamento è per venerdì 26 maggio, alle 7 e mezzo, al convitto Ciconini, una serata benefica. Sperandini, qual è l'obiettivo di questa serata? Beh, allora, l'obiettivo nasce appunto da cercare di porre l'attenzione in particolare sulla figura femminile, che naturalmente vorremmo celebrare in tutti quelli che sono i ruoli, ossia, naturalmente, prima di tutto all'interno della famiglia, nei compiti che uno, diciamo, ha sulle spalle della famiglia, ma anche nel campo dell'impresa e nel campo anche delle professioni. Perché questo? Perché spesso le donne sono sempre le ultime, anche pensando alla propria salute, mettono spesso sempre davanti i bisogni della famiglia, dei figli, del marito, delle persone che sono in casa, eccetera. E quindi questo qui è una situazione, un evento per celebrare, ricordare alle donne, proprio se stesse, quella che è la loro importanza, il loro ruolo, e soprattutto di non dimenticarsi di se stessi, di darsi valore e di prendersi cura, per esempio qui noi in Ante, con delle cure di prevenzione che facciamo anche gratuitamente sul territorio qui di Prato e di Pistoia. Ecco, richiediamo appunto Fondazione Ante, nata quindi, come dicevamo, 45 anni fa, impegnata quindi nell'assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore, nella prevenzione oncologica. Raccontiamo ancora un po' di questa serata. Come funzionerà? Quindi voi premierete alcune donne e chi sono queste donne che verranno premiate venerdì prossimo? Allora, questo premio è un premio appunto nato, siamo alla quarta edizione, le categorie sono la sanità, la comunicazione, la solidarietà, e poi lo sport, l'impresa e la moda. Ha la peculiarità quella di non premiare per forza chi è al vertice di un'azienda, per esempio, o il CEO, ma bensì quelle donne che si fanno ambasciatrici della mission di Ante, anche all'interno di un'azienda rivestendo anche ruoli che semmai sono secondari. Perché comunque c'è bisogno di persone, di donne in questo caso, che si fanno portavoci di quello che è l'impegno di Ante verso i malati oncologici e verso la prevenzione. Particolare è il premio, quello dato alla solidarietà, perché credo che siamo una delle poche onlus, che premia un'altra onlus. Riconosciamo il valore di realtà sul territorio del terzo settore, tra l'altro con alcune a volte facciamo dei progetti e collaboriamo, abbiamo fatto con la Pitigliani, abbiamo fatto con la Mensa Lapira, lo abbiamo fatto con la Caritas e stavolta viene premiata Francesca Ranaldi per il Centro Antiviolenza, la Nara, che sappiamo adesso è un argomento terribilmente di attualità e che quindi credo che sia anche l'occasione giusta per dargli un momento di informazione attraverso anche un evento come questo. Per quanto riguarda invece la sanità, premiamo la dottoressa Sabrina Pientini, che è geriatra, psiconcologa e responsabile delle cure palliative di Prato e Pistoia, con la quale noi come Fondazione Ante ci relazioniamo, il nostro interlocutore sul territorio. Per quanto riguarda invece la comunicazione, la giornalista e autrice Silvia Gambi, che forse molti pretesi conoscono anche per la realizzazione del Stracci, il film insieme a Tommaso Santi e che è la portavoce della moda sostenibile e circolare. Le altre invece per lo sport, abbiamo una ragazza molto giovane, perché come sapete prevenzione e sport vanno a braccetto, abbiamo la Virginia Occhino, campionessa di palla a mano, serie A1, e tra l'altro si è anche da poco laureata, quindi è anche un messaggio positivo di vedere una ragazza così giovane, impegnata nello sport, nella carriera universitaria e anche accanto a Dante, perché poi diventa testimonial e ci rappresenta attraverso i social. E poi ci sono anche le altre donne, quindi sono sette in tutto. Sì, dico anche le altre. Allora, per l'impresa abbiamo la responsabile del marketing, Sara Spampani, in rappresentanza dell'azienda Zona. Zona è un'azienda che si occupa, a credo 11 punti vendita in Toscana, di fornire ristoranti, bar, di tutte le materie prime per quanto riguarda l'approvvigionamento. Ed è da anni accanto alla Fondazione Ante in tanti progetti. Per quanto riguarda invece la moda, in rappresentanza dell'azienda Manteco S.P.A., la Patrizia Quadrati, che lei dice che è soltanto la mamma e la moglie dei suoi figli che gestiscono l'azienda. Ma in realtà noi abbiamo fatto, giusto Tiziano, un evento a novembre presso la loro azienda ed è stata portavoce, impegnata in prima persona a far sì che venisse una bellissima serata e che potessimo raccogliere tantissimi fondi. Quindi non poteva non essere premiata. L'ultima categoria è Amica di Ante, è un premio che diamo a quelle donne che non rientrano nelle altre categorie, ma che sono comunque vicine ad Ante. Qualche anno fa fu dato a una signora che era una casalinga, quindi mamma, moglie, che però anche lei si spendeva nel trovare dei premi, nel coinvolgere le persone. Quest'anno invece viene dato alla manager responsabile dell'atelier Damiano Carrara, che sarà poi anche l'atelier che realizzerà il dolce pensato appositamente per la Fondazione Ante. Ecco, è bella anche comunque questa commissione, comunque anche tra varie realtà del territorio, anche perché comunque a rendere possibile anche questo evento sono anche le collaborazioni che ci sono con tutte le realtà del territorio e poi un evento che si svolgerà al Convitto Cicognini e ci saranno anche i ragazzi proprio del Convitto Cicognini che faranno poi da Ciceroni prima dell'iniziativa, quindi che lo faranno un po' scoprire. Sì, anche le altre tre edizioni sono state dentro il Museo del Tessuto, dentro il Museo Pecci. La peculiarità è anche quella di far scoprire anche gli stessi pratesi delle gioie, dei modelli di architettura o di cultura che sono all'interno del territorio, ma che a volte perché troppo vicini uno non li conosce. Quindi i ragazzi della scuola si sono resi disponibili a fare questa visita guidata di una scuola che è storica ed è un edificio di lustro per quanto riguarda non solo l'educazione ma anche a livello storico e culturale per la città. Assolutamente. Questo è soltanto uno dei tanti eventi. Ricordiamo poi un altro evento molto brevemente, poi raccontiamo anche un pochino meglio di Ante che ci sarà poi il giorno dopo, quindi il 27, Leoni. Sì, perché giustamente come diceva Tiziano, la nostra attività è volta a dare l'assistenza e a fare prevenzione. Per fare questo c'è necessità di donazioni o di raccolta fondi, quindi il 26 la serata meravigliosamente donne in Ante. Invece il 27 maggio appoggia a Caiano al Teatro Ambra, ci sarà uno spettacolo musicale di un gruppo che si chiama Quattro Quarti, scusate, e ha un'offerta minima di 10 euro, quindi è una serata di dire cosa facciamo sabato sera, andiamo a sentire un po' di musica e nello stesso tempo aiutare Fondazione Ante. Ecco, raccontiamo un po' appunto di Fondazione Ante. Sperandini, quali sono intanto le attività principali che fate e quante sono anche le persone che state seguendo? Allora, intanto come dicevi prima tu, qui siamo al 45esimo anno di Ante, quindi esiste dal 1978. Da allora Ante ha assistito una cifra molto importante di persone, sono 150.000 gli assistiti di Ante dal 78 ad oggi. Qui nella zona di Firenze, Prato e Pistoia, perché è seguita da un'unica squadra, l'equip dei medici, gestiamo circa 800 assistenze ogni anno, con i vari turnover dovuti, e quindi i numeri sono importanti. Se uno va a vedere quelle che sono le attività di Ante, o meglio, come sostenere l'assistenza e la prevenzione, sono le due linee core business di Ante, se così le vogliamo chiamare, sostanzialmente per l'80% sono sostenute esclusivamente da donazioni dal 5 per 1000, le quali vorrei approfondire fra un attimo, e quindi da privati e quindi da sponsorizzazioni di aziende. Quindi non esiste Ante se non esiste l'attività di sostegno che aziende, persone, il loro privato, eccetera, possono naturalmente dare. Altro elemento, tassello fondamentale per la vita di Ante sono i volontari. I volontari, le signore qui di Prato e di Pistoia, sono delle persone eccezionali, tutti i giorni si mettono in gioco per Ante, gestiscono due CRT Point, che sono uno qua a Prato in via Boni e a Pistoia in via del Cambianco. CRT Point dove attraverso il riutilizzo di abbigliamento usato, riusciamo a fare una raccolta fondi e con quella a sostenere appunto le cure oncologiche domiciliari. Siamo in un periodo, questo, di denunce dei redditi e nessuno, diciamo, ha un costo se decide di destinare il 5 per mille, possibile fare naturalmente la denuncia dei redditi, ad Ante. Questa firma non costa niente a nessuno ed è una cosa che poi alla fine per noi è realmente importante e fondamentale. Che dire di Ante? Per quanto riguarda l'attività dei sostegni, cioè coloro che donano ad Ante, si possono sentire anche tranquilli sapendo che un euro donato ad Ante viene interamente messo a disposizione dei malati oncologici. Ossia ci sono degli studi fatti dalla Human Foundation, dove viene indicato che un euro dato a Ante produce un euro e 90 di utilità. Questi studi riescono a raffrontare anche come un malato gestito da Ante in un arco temporale medio di quattro mesi costa realmente 1500 euro. Nello stesso malato però, assistito da servizio sanitario nazionale, strutture private, condegenze, eccetera, eccetera, per fare gli stessi servizi si sostiene costi di 7000 euro. Allora, se io fossi un sostenitore di Ante, e lo sono, perché sono un volontario naturalmente, questo potrebbe essere un elemento che mi potrebbe far decidere di aiutare questa associazione. Perché so che il mio sforzo economico, il mio appoggio, può essere naturalmente indirizzato e sviluppato nel miglior modo possibile. Certo, siamo in chiusura, il tempo scorre veramente velocemente, quindi ricordiamo appunto, accennava volontari, quindi l'importanza anche del ruolo e del lavoro, insomma, dei volontari, ovviamente anche dei medici, degli infermieri, di cui insomma c'è sempre bisogno di tutti. Ricordiamo in chiusura, leoni, i contatti, quindi anche per partecipare alla scena. Allora, si può chiamare il 345 15 62312 e mi faceva piacere anche dire che per questo evento è stato coinvolto Niccolò Palumbo, lo chef del ristorante Paca, che è Stella Michelin. E poi l'elenco enorme di tante aziende e professionisti che si sono resi disponibili a rendere questa serata particolarmente bella. Assolutamente sì, ricordiamo appunto, ci sarà anche la performance di Edoardo Nardin e poi a condurare la serata, la nostra insomma amica e collega Maria Michela Mattei. Io ringrazio davvero Benedetta Leone e Tiziano Sperandini per essere stati con noi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a tutti voi, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.